e questo è il punto, è vero, questa è un bravo che parla di danza piccolare è una danza molto sensuale è una danza che sono sicura a te, mi piace molto il video, il video da qui, ecco qua, vediamo a te, mi piace molto e questo è un bravo che non mi piace molto è un bravo che mi piace molto Grazie a tutti Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.